All'Innovation Angels, io lascio il posto a Paola Vettolazzi. Buongiorno, sono direttore dell'Istituto di Sistemi Informatica, che è l'istituto che ha coordinato l'organizzazione del convegno, è una delle unità operative del progetto BV. Siamo alla sessione degli Information Angels, ossia di coloro che forniscono strumenti e supporto sia per favorire l'innovazione nelle imprese, sia per supportare e accompagnare le imprese verso questi processi di innovazione. Abbiamo i due progetti europei, un'esperienza universitaria, quello che il CNR fa in questo momento rispetto all'innovazione ed Enea, quindi due enti pubblici di ricerca e due imprese. Il primo intervento è...